Il salotto di Torino, dove mi sembra che il casino c'è la partita della Juve, no? Sì, sì, sì. Sì, c'è stato con l'impalcature. E saranno allestendo qualche spettacolo, sicuro. E vieni a lavorare quello là di prima? Sì. Tecnico del suono. Tecnico del suono è caduto da 6 metri. Quello là. Caduto da 6 metri? Sì, è caduto da 6 metri. Lui è rimasto paralizzato. Quello che c'era sul treno. Non l'hai sentito. Non ho sentito quella parte lì. Della Juve. Io ho sentito che pesava 40 kg in più. Sì, ma lui mentalmente è stata la cosa alla schiena che la... Il petto è sbarillato. Sì, oggi è quasi... E' andato lì, no? Ah, era in fondo il capito. Guarda là. Fa le chiese. Ma lui ha fatto militare qua nei Carabinieri. La scuola Carabinieri. Ecco perché si è fermato lì a fare le scuole. Arriva con un selfie o aspettiamo che... La caserma di Serenaia. Piazza Ciccando dal gioco. La scuola Carabinieri è la scuola Carabinieri.